Si inaugura oggi il polo logistico a Preturo, l'Aquila, è un luogo dove fare cultura di protezione civile e di volontariato di protezione civile. Lei come numero uno della protezione civile abruzzese, quale sentimento avverte? Un sentimento di profondo orgoglio e di consapevolezza di aver fatto il massimo possibile. Abbiamo trovato cinque anni fa una protezione civile, una regione che si portava sulle spalle la triste eredità della vicenda di Ricopiano e non lo meritava perché la protezione civile d'Abruzzo è sempre stata in prima linea e ha sempre fatto il meglio. Purtroppo c'erano anche delle condizioni oggettive e materiali che impedivano di esprimere al meglio le proprie capacità. Un parco mezzi vetusto, un rapporto slabbrato e sfibrato con le associazioni e scoordinato con le associazioni di volontariato che si devono invece coordinare con il sistema regionale di protezione civile. Una protezione civile regionale che aveva una catena di comando lunga, disarticolata, che metteva in difficoltà nell'assumere le decisioni e nel poter operare. E' mancata pianificazione dei piani di prevenzione di diverso livello e di diverso settore, pochi fondi per l'antincendio. Io le prime cose che ho fatto ho messo i fondi che servivano per l'antincendio, abbiamo raddoppiato il numero degli elicotteri a disposizione e soprattutto ho voluto costituire l'Agenzia di protezione civile che ha conferito autonomia, velocità di decisione, prontezza operativa a tutto il sistema della protezione civile. E' anche migliorato il rapporto diretto con le associazioni di volontariato, non si passa più per i timbri delle ragionerie, i visti degli uffici, i tre, quattro passaggi della linea di comando prima di arrivare al presidente che per legge è il capo della protezione civile. Oggi il direttore dell'Agenzia risponde direttamente al presidente, ha l'autonomia per gestire i fondi, ha l'autonomia e la responsabilità per prendere le decisioni che servono quando accade una calamità o c'è un'emergenza da affrontare. Non deve chiedere il permesso a nessuno, non deve temere che nessuno possa dirgli perché hai fatto questo o perché ti sei mosso prima di aver avuto la copertura, l'autorizzazione, il nulla osta e così via. Basta con la burocrazia, l'emergenza e la sicurezza non tollerano e non permettono di perdere tempo con la burocrazia perché il tempo significa salvare vite umane e mettere in sicurezza i territori. Nell'accordo di coesione abbiamo aggiunto i fondi che servono per completare il rinnovo della colonna mobile e dell'intero parco mezzi. Lasciamo una protezione civile dopo cinque anni che è moderna, efficiente, organizzata, autonoma e un Abruzzo sicuramente più sicuro.